ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video fin dagli albori della mia attività di birrificazione casalingo brassicola mi sono prodigato nella macinazione dei malti utilizzando un classico mulino due rulli da prima manualmente con la manovella e molto olio di gomito e successivamente aiutandomi con un avvitatore in modo da rendere tutto un po più agevole e meno faticoso visto che l'età anche per il sottoscritto sta andando avanti fino a qualche giorno fa ho macinato i miei grani il giorno prima della cotta normalmente la sera prima di andare a dormire però ultimamente ho optato nelle ultime cotte negli ultimi mesi per andare a macinare i grani il giorno stesso della cotta pochi minuti prima del machine a dire il vero non so se questo possa portare dei benefici ma personalmente ho riscontrato un leggerissimo aumento di efficienza e ritengo che questo possa preservare al meglio i grani da ossidazione o comunque mal conservazione ripeto non so se questo metodo possa realmente portare dei benefici ma sicuramente male non fa e quindi lo sto adottando come mio standard anzi se qualcuno avesse delle informazioni in merito vi invito a mettere un commento qui sotto in modo tale da aprire magari una discussione costruttiva sull'argomento e visto che state scendendo a dare un'occhiata ai commenti vi invito a fermarvi per lasciare un bel mi piace qui sotto al video e se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi a questo canale cliccando sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video in uscita ora il fatto di andare a macinare manualmente i grani di per sé implica del tempo e se lo si fa il giorno della cotta inevitabilmente il brew day si allunga per quanto riguarda il tempo quindi per provare ad ottimizzare i tempi ho deciso di andare a motorizzare il mio mulino in modo tale da poter sfruttare il tempo in cui il mulino andrà a macinare i grani per fare altro per esempio preparare l'acqua scaldarla aggiungere i sali controllare il ph eccetera 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 e comunque motorizzare il mulino era un'operazione che da tempo volevo fare ma per un motivo o per l'altro l'ho sempre rimandato e come credo avete intuito dietro di me ben protetto dalla scatola brandizzata project zero si trova appunto il mulino che ho fatto motorizzare anzi permettetemi di ringraziare un amico brewer daniele della provincia di roma che come sempre mi aiuta in questi progetti dove c'è da mettere della manualità dove c'è da collegare componenti perché sono negato assolutamente nel fai da te e soprattutto sulla parte di connessioni e di aggeggi elettronici quindi grazie daniele ma che dire siete curiosi di andare a scoprire tutti i dettagli per prima cosa partirei dal lato estetico abbiamo deciso di proteggere con una scatola la struttura del molino per poterla riporre in maniera più agevole e anche per dargli un tocco esteticamente più grazioso per permetterci di andare ad aprire e chiudere la scatola in modo semplice e rapido abbiamo adottato il coperchio di queste semplici cerniere che sono posizionate su tutti i lati ora aspettatemi un attimo che vado ad aprirle una volta andati a scoperchiare il molino si può vedere il molino fissato sul basamento ovviamente sotto è stato fatto un foro per permettere ai grani di scendere ovviamente è fissata anche la tramoggia e c'è una scatola con all'esterno due pulsanti uno accensione e uno un regolatore dove all'interno è custodito tutto il meccanismo che permette di motorizzare i rulli per andare a macinare appunto i grani ora ovviamente la scatola è completamente chiusa con delle viti quindi se mi date un attimo vado ad aprirla magari mi metto in una posizione più comoda e vi giro delle clip mentre vi racconto cosa c'è all'interno allora sul posteriore arriva la presa di corrente per prima cosa abbiamo inserito un trasformatore per abbassare la tensione da 220 a 24 volt per cui un trasformatore 24 volt 10 ampere per poter gestire il motore abbiamo installato un pulsante on off per dare e togliere corrente al circuito in modo di accendere o spegnere il motore a piacimento ho anche preferito installare un riduttore di velocità in modo da poter adattare la velocità di rotazione a piacere come detto tutto comandabile dall'esterno con gli appositi selettori da lì i cavi vanno ad alimentare il motore elettrico motore per alza cristalli 24 volt 10 ampere apro e chiudo una parentesi prima di selezionare il mulino che poi ho scelto che appunto ritenevo correttamente performante ne ho selezionati ne ho provati ma scartati moltissimi questo perché tanti motori che sulla carta sembravano validi in realtà non avevano delle buone performance da punto di vista della potenza infatti magari avevano una velocità di rotazione anche elevata ma la potenza era troppo bassa quindi non riuscivo a macinare i grani soprattutto quelli più duri tipo il frumento e soprattutto avevo problemi a pieno carico della tramoggia quindi questo era un grosso problema che mi ha fatto scartare vari motori per poi arrivare al motore definitivo comunque non preoccupatevi prima che me lo chiediate vi dico già che qui sotto in descrizione lascerò tutti i link dei prodotti che ho utilizzato per realizzare la scatola motorizzata di questo progetto ora per collegare l'albero del motore allo stelo del mulino ho utilizzato un giunto snodato in modo da evitare che sollecitazioni nel tempo possano rompere qualcosa e queste sono tutte le componenti utilizzate ora vi lascio ad alcune immagini dei test di funzionamento fatti con vari tipi di malto tipi di malto tipi di malto devo dirvi che ho già utilizzato il mulino per un paio di produzioni e ritengo questa soluzione veramente veramente molto comoda dal mio punto di vista vale tutti i soldi spesi chiaramente abbiamo realizzato il basamento con un alloggio sotto per un secchio dove vado a raccogliere tutti i grani per cui vado a riempire la tramoggia con i miei grani attivo il mulino e lascio appunto che i grani a pioggia cadano all'interno del secchio una volta terminato di macinare prendo il secchio e sono direttamente pronto per versarli in pentola giusto per il machine io spero di avervi spiegato al meglio questo progetto spero che sia chiaro per chiunque fosse interessato a replicare questa soluzione e mi scuso anche se avessi detto qualche inesattezza purtroppo di componenti elettroniche ne capisco poco e per questo mi sono fatto aiutare da chi è più pratico e chi è più capace nell'assemblare questi componenti ad ogni modo per qualsiasi info necessità richiesta non esitate a contattarmi anche per oggi ho detto tutto spero che questo video sia stato utile per qualcuno o lo sarà in futuro spero comunque che sia stato di vostro gradimento e di intrattenimento e noi ci vediamo al prossimo video ciao